Musica Gira sulle linee di fondo Donnell, palla sotto per Cervi, eccola qua, la cattivere che chiedeva Teno in transizione, eccolo, il suo tiro da tre per mettersi in partita Donnell Taylor C'è l'altro palleggio, resta tiro e Taylor, altri due Un po' secondo, Taylor da casa sua Da 8 metri, ancora la bomba di Taylor Donnell Taylor che qua prende un altro tiro, impossibile, in testa Cicciarini, 15 per Taylor, mamma mia Prende un gancetto buttandosi indietro, altri due di Brunner scatenato In fondo scarica, proprio per Andronotti, libero da tre, importante, eccola la bomba Sotto per Cervi, altri due di Cervi, schiacciata James vola Libero da tre, prende, tira e segna Jarebic finalmente si sblocca e poi esulta come se avesse fatto gol L'arriere Mizz da tre, in ritmo, eccolo qua Eccola Eccola, la bomba di Mizz Fuori, Antonotti da tre, importante, la bomba Sotto, Tonotti, altri due col fallo 94 a 80 e questo è il punteggio con cui si conclude questa partita Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti